Qualifica 1 dell'International GT Open nel settimo e ultimo appuntamento della stagione 2017 lotta serrata al vertice per l'assegnazione della full position terzo crono per l'inquadrato Marco Mapelli con la Lamborghini Huracan GT3 di casa Imperial Racing 1.44.406 il tempo del pilota italiano qui gioco di sci è fornito dal team Imperiale che proprio con la 63 è in lotta per il titolo con Giovanni Venturini leader di campionato Imperiale che prende anche la prima fila con Christian Englert in arrivo dal endurance pilota ufficiale Lamborghini che ha piazzato il tempo di 1.44.369 a soli 21 millesimi dalla full position conquistata da Albert Costa pilota di casa qui lo spagnolo di Barcellona che è andato così a prendere la full position che gli dà la possibilità di tenere ancora aperto il discorso del titolo dunque Costa Englert la prima fila ma Pelli Farmbacher la seconda sfida fra Lexus e Lamborghini con la gioia dell'Emil Frey Racing per l'ultimo tentativo di attacco al titolo della stagione 2017 della settembre